Mi sono innamorato di te. Sono sotto a casa tua, ti aspetto. Cosa stai facendo? Sei con lui? Ti ho visto al bar. Chi era quello? Non costringi a niente di essere cantivo. Non puoi vivere senza me. Stai attento quando attraversi la strada. Sono successivo. Cosa sarà? Dove stessi? Non permettere a nessuno di perseguitarti. Chiama Stop Stalking 0341 086 888 e un... Dottoressa Bartocetti, oggi è stato presentato questo nuovo sportello presso l'ospedale di Lecco per l'assistenza di un fenomeno grave qual è lo Stalking. Ci puoi spiegare come avverrà e che cosa riguarda chi tocca questo fenomeno? Tocca purtroppo donne e uomini che si trovano improvvisamente colpiti, perseguitati da queste minacce, da atti persecutori veri e propri che nella più parte dei casi che abbiamo seguito fino ad oggi avvengono per mano e a causa di una relazione che si interrompe quindi un ex coniugine, un ex fidanzato, un ex collega e quindi questo insieme di comportamenti porta poi il soggetto donna, uomo che sia ad avere un'esistenza veramente complicata perché lo stato d'animo non è completamente sereno. Non dimentichiamo poi che a volte questi casi di Stalking avvengono nel luogo di lavoro quindi immaginiamoci lo spirito con cui si affronta la giornata, gli impegni e le responsabilità. Quindi noi con il telefono, con degli appuntamenti, con tutta una serie di specialisti che lavorano con noi interveniamo per contenere queste crisi, per fare in modo che non vada oltre il dramma che la persona che ci telefona ci descrive. Anche perché non dimentichiamo che per Stalking è a causa di questi comportamenti che vessatori e continui sono morte moltissime donne negli anni e quindi questo è veramente un allarme, è un'allerta molto seria. È un fenomeno anche difficile per chi lo subisce da denunciare e questo sportello potrebbe essere un aiuto per uscire o combattere questo tipo di abusi. Ma a volte le dirò che è anche difficile da riconoscere perché spesso si tende a minimizzare, cioè nella quotidianità accade che una donna che abbia perso il fidanzato e ha un fidanzato che la chiama a quelle 20-30 volte al giorno, all'inizio pensa che sia un atteggiamento o un comportamento normale. L'allarme o comunque la difesa scatta quando nella ricerca di contatti l'ex arriva ad essere minaccioso, allora si può avere un problema e quindi bisogna veramente insegnare qual è il confine fra chi non accetta la fine di una storia perché effettivamente è legato e continua ad essere effettivamente coinvolto e chi invece non accetta la fine perché non ammette che l'altro possa staccarsi e quindi possa avere un percorso e scegliersi un percorso proprio personale. Questo è un po' il distinguo. Il problema vero è che purtroppo gli aggressori hanno degli identikit molto particolari, non è detto che siano soggetti a rischio. Sono spesso persone che hanno sempre vissuto con tranquillità e serenità e che però con questa esperienza perdono il controllo e iniziano un percorso di accelerazione, di violenza e di aggressività molto pericolosa. Il risultato di questi primi mesi è estremamente positivo, nel senso che è lo che si è accettato in alcuni casi, non solo donne ma anche un gruppetto di uomini che sono stati sottoposti a questo tipo di studio, una volta anche molto pesante. La cosa forse che si può notare più di tutti è la grande collaborazione che si è riusciti a costruire tra le istituzioni, prefettura, questura, comando di carabinieri, AS, l'azienda ospedaliera e lo sportello, proprio per rendere presente sul territorio un punto di riferimento cui le vittime dello stalking potessero rivolgersi con molta libertà, con la riservatezza che in questo caso richiede. E la cosa sta funzionando, c'è uno scambio reciproco di informazioni tra le forze dell'ordine dove normalmente la gente potrebbe rivolgersi e lo sportello che quindi va sempre più fatto conoscere e quindi confidiamo che la cosa possa rifarsi ulteriormente il futuro. La regione Lombardia ha investito molto su questo progetto, i due sportelli sono uno all'Eco e uno all'ospedale Nini Guarda. La regione Lombardia ha messo a disposizione 160.000 euro per questi sportelli, quindi una somma rilevante che consente agli sportelli di funzionare 24 ore sui 24 e questa è un'altra caratteristica molto importante perché una donna e un uomo che non è seguitato da queste, è seguitato, può rivolgersi nel corso dell'intera giornata, questo è la nostra, questo direi che è una luce, quindi per questo primo anno scarso di attività siamo molto soddisfatti e confidiamo che possa rifarsi ulteriormente. Sì, l'obiettivo è che in tutti i territori delle ASD ci possono essere degli sportelli in cui le persone interessate possano rivolgersi a ottenere l'appoggio, ottenere la conoscenza di percorsi da fare per liberarsi da questo dramma che è un dramma tipico di questi nostri anni, figlio di tante cose, sicuramente anche della rottura di rapporti familiari perché come abbiamo visto dei dati, la stragrande maggioranza di questi casi di stalking nascono all'interno di un rapporto che si è venuto a rompere, quindi sia familiare o tra conoscente, quindi questo comporta anche un lavoro di prevenzione che possiamo fare attraverso i nostri consultori, un percorso interessante che deve essere presidiato su tutto il territorio regionale. L'ospedale diventa la casa di questo importante servizio contro lo stalking, ci può spiegare i motivi e come funzionerà? Sì, diciamo che è frutto di un accordo tra l'azienda ospedaliere e l'ASL, stiamo andando incontro a quella che è una indicazione precisa di Regione Lombardia che vuole che noi organizziamo degli spazi per accoglierle, per accogliere il lamento di chi è colpito da questo grave reato. L'aver creato uno spazio a favore di questa associazione che agisce soltanto per combattere questo reato aiuta i cittadini ad avere una pista anonima per denunciare quello che gli è accaduto e poi per essere aiutati a ristabilire il loro equilibrio psichico.